Allora ragazze buongiorno, vedo la situazione di brandizzo continua ancora a peggiorare, sono stufa, stra-stufa di avere un punto vendita con le dette vendite che si sbattono un po' le p***e, ok? Allora, la questione è bagno, tranne che non vi state pisciando addosso, avete il ciclo, adesso è molto pesante, vi state c***o addosso, in bagno non si va più. Per chi sono stufa, ma stufa di non capire chi c***o sta in turnante. Avete il quarto d'ora, leggete il p***o fino al quarto d'ora che avete la pausa. Ok? Perché non è possibile che ho un continuo a peggiori, a peggiori, a peggiori, a peggiori e la c***o è in cassa e in sala. Mi sono rotti c***o. Questo è il punto primo. Punto secondo, esigo da oggi che veniate in turnante dieci minuti prima, perché mi sto rompendo c***o questa cosa qua, di sentire i vostri colleghi che escono più tardi e che arriva, arriva meno due. D'ora in poi la procedura aziendale è questa, se arriva dieci minuti prima, ci si prepara, si conta il fondo e si va in cassa. Io, chi non arriva dieci minuti prima nel turno, faccio contestazione perché brandizza ingestibile. È tornato di nuovo ingestibile, punto vendita. Grazie. 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 Grazie.